Questo è un regalo che mi ha fatto, l'ho detto, Prem. Adesso lo rimetto al suo posto e poi inizio a fare un video di cui non ho la più pallida di idea da dove poter cominciare perché ho una marea di cose che mi frullano per la testa e pensandoci mi dicevo cerco di essere stringato perché sai che la gente non ha mai tempo per le cose importanti, vanno sempre di fretta, vanno sempre di fretta, ho salutato un'amica che mi ha prestato tutte queste belle sedie che sono qui e la gente va sempre di fretta invece verso l'inutile, verso quello che ti appesantisce la vita e che cos'è che ci muove a fare queste cose qui perché non è l'intelligenza ovviamente e che non è neanche il cuore che lo fa perché il cuore vuole stare semplicemente bene, bene, non ne frega niente di niente, di nessuna spiegazione, lui vuole stare bene perché è un grido, è un'essenza dentro l'anima, dentro il cuore di ogni essere umano che viene mandato in questo mondo a farsi questa esperienza terrena con questo corpo macchina da sensazione per apprendere una lezione che non può essere spiegata con un linguaggio, non basterebbero le parole, non basterebbero i libri su quali scrivi per capire che cos'è che devi comprendere, cioè fare tuo, che diventi carne della tua anima, che diventi consapevolezza, una cosa acquisita una volta per tutte. Per cui la domanda che cos'è che ci spinge a cercare l'inutile e a dannarci per l'inutile e a difendere quello che ci fa soffrire è la nostra mente, non la nostra intelligenza. Anzi, per essere ancora più preciso, è la mia mente, è la mia mente, che sa solo cose che riguardano questo mondo, che ho cominciato ad imparare in questo mondo dal primo respiro e vagito in poi, fino adesso. Oggi sono un pochino diverso da ieri, domani sarà un pochino diverso da adesso e finché avrò la fortuna, l'onore di ricevere la vita direttamente dal creatore, al produttore, al consumatore senza intermediari, io me la spenderò con la massima contentessa, proprio mi sento contento, mi sento fortunato di essere qui, in questo pianeta, in mezzo a tanti fratellini, no? Parenti, perché proveniamo tutti dall'ultimo ceppo, dove la stragrande maggioranza è ipnotizzata, non vede la realtà, non è un fatto di intelligenza, assolutamente, non c'entra nulla con l'intelligenza. Sono persone molto intelligenti, che hanno capito tantissime cose, che sono anche giuste, se le vai ad analizzare, a fare la prova del nove, eppure, eppure non hanno compreso lo scopo della loro vita, perché non vivono in pace. Perché per stare in pace, non basta saper la teoria amminadito, non è una religione la pace, che devi studiare. Io mi ricordo quando ero un bambino, che mi hanno fatto la full immersion di religione, perché a nove anni, no, che a nove anni, a sette anni, fui, come dire, mandato in una specie di ospedale collegio, perché avevo una leggera ombra, di una macchina in un polmone, mio babbo aveva la TBC, per cui ci stava che io avessi una piccola macchina, che poi è stata curata. Però mi tenero lì due anni, no? Due anni dove ho visto la mia famiglia, che mi sono venuti a trovare, una volta, sola. E mi ricordo che sentivo questa nostalgia costante tutti i giorni, di casa mia, di mia mamma, di una vita che nel mio piccolo, un bambino di sette anni, aveva già i suoi ricordi e sentiva la differenza del sentimento, dello stare bene in una cosa familiare, privata, e una cosa che, anche se mi stava salvando la vita, come in effetti è stato, non mi poteva dare quella vicinanza, quell'affetto, che è il bisogno, la necessità primaria per un essere umano, no? Ma perché poi ho parlato, infatti, quando ero bambino? Ah, il catechismo. In queste specie di collegio ospedale, governato dai preti, dalle suore, speciemente suore, lì era chiesa dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera. Io mi ricordo che nel pomeriggio, quando andavamo a fare il riposino, che ci costingevano a fare, ma che i bambini non farebbero mai, perché ha altamente tanti quell'energia, che finché ce n'è, il bambino saggiamente la spende, no? Però ci mandavamo a fare il riposino, e nel riposino potremmo leggere o il libro del catechismo, un libricino che c'era delle domande, alla fine che erano grossissime, con delle risposte grossissime, e io le ho imparate tutte. Adesso non mi ricordo più niente, a parte qualche atto di dolore, che sono le cose più importanti, che vogliono che noi ci ricordiamo. L'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho offeso la vostra maestà, eccetera. Una preghiera così è già una bestemmia chiamare la preghiera. È una bestemmia chiamare la preghiera. Perché l'unica preghiera che ha senso, e l'ho visto nella mia esperienza quotidiana, da quando ho 25 anni adesso, che conosco me stesso, che ho avuto la fortuna di poter bagnare il becco, come la colombina dei mosaici di Ravenna, di bagnare il becco nella coppa della verità che è dentro di me. Ed allora, bagnandomi il beccuccio, mi ricordo quello che volevo dire, adesso parlavo prima della chiesa, che comunque lì era una cosa dove le preghiere e lo stato d'animo, rilasciando il mio lato di dolore, mi hanno formato quella convinzione che Dio, nei miei confronti, non è tranquillo, ce l'ha un po' con me, non è contento di me, gli faccio un po' schifo, sono un peccatore, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, dei miei peccati, ma che peccati può aver fatto un bambino di 7 anni, o un adulto di 80 anni, o di 40 anni, o di 50 anni, da offendere il creatore, quale peccato, quale peccato puoi fare perché tu vedi Dio, oddio mia, toglietelo dalle mani perché lo disfo, non esiste questa roba qui, esiste solo nella mente depravata, di chi ci sta governando da migliaia di anni, e lo sta facendo anche adesso, e fa di tutto per rompere il cazzo, il cazzo alle persone che sono accese, sveglie, in tutte le epoche l'hanno fatta questa cosa qui, e lo fanno anche adesso, non mi mettono sul rogo, non mi bruciano sul rogo, come avrebbero fatto anche solo 150 anni fa, o 200 al massimo, un bel taglio della testa anche, andava molto bene per risolvere i problemi, però fanno in modo adesso di azzerarti, di zittirti, ad esempio qui il mio lavoro, da quando l'illustrissima polizia municipale, con il timbro della prefettura, e con il timbro del giudice di pace, hanno deciso di schiantarmi economicamente la carriera, e ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta perché da più di un anno e mezzo, da quando mi hanno sequestrato l'elemento chiave per far accendere il mio progetto, sul quale sto lavorando dal 1992, impedendomi di accendere questo motore, di questo missile, di questa nave, che deve partire per dare prosperità alla gente, che la vuole, perché ci sarà molta gente che non la vorrà, e va benissimo, ma per chi la vuole, per chi ha sete di una vita semplice, in pace, gratificante, che ti vai a letto con la pancia piena d'amore, e dormi bene, e ti svegli bene, per quelle persone lì, io sto facendo un lavoro, un gioco sacro, che può essere condiviso anche da queste persone qui, può essere fatta questa cosa. Questa polizia municipale, che mi impedisce di lavorare, per cui di guadagnare dei soldi, per la prima volta, per la prima volta, da quando io sono un professionista, mi trovo in brache di tele, economicamente, e non vi chiederò una lira a voi ravennati, perché vi conosco, siete come me, odiate i vostri concittadini, che hanno un merito, per cui non vi chiederò niente, perché non mi darete niente, l'ho già visto, a parte pochi amici, pochi piccoli geni, che esistono anche a Ravenna, e il resto siete assenti, ingiustificati, c'è poco da fare, per cui non vi chiederò nulla, però di fatto, io devo andare via di qui, perché il giorno del mio compleanno, la padrona di questo negozio, di quell'altro, mi ha detto, Montelli, io voglio vendere i negozi, e a fine mese, mi li devi liberare, non mi interessa niente, i soldi che devo dare di affitto, eccetera, mi deve lasciare libero i locali, e io mi sono detto, perché tutte le volte che arriva, una notizia, un qualcosa, che noi siamo abituati a classificare, tipo, ah questo è un problema, ah questa è una fortuna, e poi non ci ritorriamo più sopra, quelle cose lì, invece nella realtà, nel tempo, l'evoluzione delle cose, fa diventare, quello che tu hai giudicato, sbagliato, un errore negativo, esattamente il contrario, una cosa giusta, una cosa positiva, una cosa che faceva proprio al caso tuo, capito? E allora adesso, mi ritrovo in questa situazione, dove ad esempio, considerando, ricordando, quando mi hanno fatto la prima multa, giusto per fare, un piccolo esempio, sulle parole che ho appena detto, la prima multa che mi hanno fatto, il primo verbale, dei 4-5 sequestri, che hanno buttato su, tra l'altro, mi hanno anche condannato, io sono condannato, per avere fatto aprire, aprire, il primo scatolone, sequestrato, con tutti i cazzi artistici dentro, che mi sono costati, una fortuna, una fortuna, solo di gioiellerie, mosaico, e altri lavori, no? Ma loro, chiaramente non interessa niente, mi hanno sequestrato questa roba, e siccome io, ho creduto alla Veritas, in qualità di Anam, che mi ha detto, facciamo un dissequestro, dopo aver fatto il rigetto, avergli dato, il tempo di rispondere, scaduto il quale, noi siamo libri di fare il dissequestro, l'abbiamo fatto, però, sorpresina, sorpresina, io sono stato condannato, a sei mesi di reclusione, reclusione, e 4.700 euro di multa, che hanno detto, però la condoniamo, perché lui non ha mai avuto precedenti, non sono mai stato, pessicato, con le mani nel reato, no? Con cui sono vergine, e gli condoniamo, condoniamo anche la multa, però, buttiamo via, la scatola, con tutti i casi dentro, a meno che, non ti appelli, vai in giudizio, e in giudizio, poi, puoi anche, rischiare di più, cioè, che mi danno più mesi di condanni, che mi aumentano la cosa, e io ho detto, vengo in giudizio, e se mi condannate, l'onta rimarrà su di voi, passerete alla storia, per avere multato, in un momento, dove l'arte, sembra che sia libera, l'unico artista, lucido, che sa cosa serve l'arte, se non la metti, al servizio della pace, l'arte è, merda, 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 pura merda, e io non pretendo, che gli altri lo capiscono, perché, sono talmente ammaestrati, a ragionare con la testa di altri, e a sentire consentimenti di altri, che è ovvio, che la pace, la pace, non è uno slogan, la pace, non è un, pur parler, tanto per fare delle mosse, non dobbiamo fare le guerre, con la scusa di un'ipotetica pace, ma mica poi la dobbiamo raggiungere, basta che ci facciamo la guerra, che ci diamo delle belle bastonate nei denti, che ci spacchiamo in due, che stupriamo i bambini, che gli caviamo gli organi, e se poi lo fa la chiesa cattolica, questa cosa qui, ancora meglio, festa, madonna che baracca, comunque morale, la multa che mi avevano fatto, la prima multa, il primo verbale che mi hanno fatto, secondo la nostra razionalità, dovevo metterlo, nel, nello scatolone dei problemi, e invece mi sono accorto che dietro quella multa ho scoperto il diritto naturale, ho scoperto delle cose che non conoscevo, che hanno cambiato la situazione, così, del mio rapporto nei confronti della legge, da così a così l'ha cambiata, e il fatto che il giudice mi abbia condannato, il giudice di pace mi abbia condannato nella prima udienza, non significa che io sono veramente colpevole e che non uscirò vincitore, significa solo che quel giudice di pace libera ha aggiunto nella lista di tutti i funzionari pubblici che sono venuti da me e mi hanno creato un danno commettendo un reato quando io non ho commesso nessuno reato, nessun danno e nessuna truffa nei confronti di nessuno, per cui, essendo un cittadino libero, rispettoso della legge e soprattutto della pace, della pace, parola fondamentale della nostra Costituzione, di cui tutti i politici ci si puliscono letteralmente il buco del culo con questa cosa qui, per cui, capite che razza di merda disumana ho di fronte io che se mi mettesse a combatterla avrei già perso perché è inarrivabile eliminare tutta la merda che c'è che c'è urbana perché è incredibile, ci viene data la vita pura, preziosa, incontaminata ad ogni, ad ogni singolo respiro, ci viene data una vita incontaminata pura da spendere un attimo in questo mondo qui e noi riusciamo in questo piccolo tragitto di questa purezza a trasformarla nella merda tossica più letale, più letale che la storia che noi stiamo scrivendo abbia finora testimoniato e lasciato un segno su questa cosa qui. Per cui questo problema ipotetico devo andare via di qui perché o compro i locali se avessi soldi li comprirei perché sono piccolo non ho voglia di smontare tutta la baracca e rimontarla da un'altra parte ma siccome so che non sono io che dirigo non sono io il regista della mia vita e del mio lavoro ma è il mio Dio interiore che lo faceva ancora prima che io me ne rendessi conto da quando me ne sono reso conto il mio setto il mio mettermi in linea dietro di lui succhiargli la ruota è motivo di perfezionamento di professionismo nella mia vita quella è la cosa di cui mi occupo principalmente non dell'arte anzi mi occupo di arte ma dell'arte suprema l'arte suprema l'arte suprema è essere contenti felici della vita che si ha a disposizione non contenti e felici se sei ricco sei figlio di vivi là no del semplice fatto di essere vivo pieno di possibilità di potenzialità da spendere e vedere cosa succede per cui siccome è lui che dirige tutta la mia baracca se lui ha deciso che questo mio lavoro deve finire me lo farà capire gli ho chiesto tante volte in passato in tutti questi anni nel quale sto lavorando ogni tanto ho avuto dei dubbi ho detto devo andare avanti con questa cosa perché io non ho mai guadagnato una lira da quando sto lavorando al progetto della Davida ma ho sempre saputo che i soldi sarebbero arrivati al momento opportuno ma non per gratificare me ma perché serviranno al progetto perché a me di diventare ricco milionario non me ne frega niente non voglio essere più chiaro non me ne frega uno stramaledetto cazzo di essere ricco ma neanche di essere ricordato se io potessi realizzare se potrò realizzare i miei tre colossei colosseo grande due colossei piccoli come ha detto il giudice di pace il 20 febbraio quando il mio avvocato gli ha detto ma cosa vuol fare un monumento alla pace cosa vuol fare un grande cazzo mentre lo dicevo io c'è più che ho detto mmm mmm sei il giudice di pace che non è male e adesso dico una cosa se per caso avrò la possibilità di fare il mio monumento alla pace avrà la forma del cazzo vagamente perché i due colossei laterali che sono più piccoli risultano come due semisfere non so se più quello centrale che è grande il doppio basta che gli alzo leggermente un po' la cupola e sembra il sacro cazzo ah 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 giudice di pace anche tu mi hai dato la tua insaputa un'idea che forse non è male e per chiudere allora se io di qui me ne devo andare perché voi ravenati non mi aiuterete l'ho già visto politici amici siete siete assenti non ci siete io farei anche l'appello al sindaco anzi glielo faccio anzi per non avere pregiudizi faccio un appello politico mi appello al sindaco di Ravenna De Pascale a Massimiliano Alberghini il vice sindaco di Ravenna a San Cisi a San Cisi vecchio politico di Ravenna a Samantha Tardi una nuova politica di Ravenna poi c'è la Valentina che ha a che fare con lo spazio di cui non mi ricordo il cognome assessore al bilancio se qualcuno la conosce gli dica che mi appello anche a lei cioè io devo andare via da questo posto devo andare via da questo posto se il comune di Ravenna mi dà un edificio pubblico dismesso che non usano più che sta andando in macerie alla malora dove ci vanno solo topi immondizie tossici quelle cose lì io me lo prendo in accomodato d'uso sul consiglio del mio avvocato e per il resto della mia vita utilizzerò quel posto lì per cominciare edificare il monumento dedicato alla pace c'è qualche politico che ha voglia di darmi un posto non chiedo soldi datemi un posto per iniziare un progetto che creerà una ricchezza incalcolabile per il comune di Ravenna incalcolabile la gente verrà così a frotte a vedere il monumento della pace che faccio io perché sarà un monumento della pace vero si starà bene lì dentro e non saranno roba tipo le orge quelle cose lì tutte cose che pensano i malpensanti vedendo il mio simbolo perché questo è il problema che hanno risolto dentro di loro irrisolto dentro di loro e dicono wow c'è questo qua che sta smuovendo questo problema risolto dentro di me fermatelo fermatelo dove andremo a finire c'è capito queste reazioni qui no? e allora se questi politici se voi politici avete un briciolo di consapevolezza di dare un senso alla vostra cazzo di vita politica e fate qualche cosa di sano per gli altri concedetemi una delle cose che state facendo marcire perché non c'è interesse no? e io ve la renderò indietro mille volte prosperosa mille volte prosperosa e non lo faccio per amore della mia città neanche dei miei concittadini ma lo faccio per amore della pace perché la pace non è solo il profumo di Dio come dice Prenna Vatt la pace è la vita stessa e senza di lei senza la pace non esisterebbe nulla l'ultima cosa che voglio dire ho finito di fare un video un video al quale ho lavorato tanti giorni con passione con la voglia di farlo con la goduria di sentire una donna parlare con le parole vere sacre potenti di conoscenza di come stanno veramente i fatti e sto parlando di Mirella Sant'Amato che venerdì verrà qui gli farò vedere questo video che durerà un'oretta abbondante ma perché io volevo fare i piccoli video perché lo faccio lo faccio lo faccio una tanto perché già lì Samantha no Samantha Sant'Amato Mirella ha detto delle cose che io facendo il video il montaggio rivedendo 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 già l'ho capito molto ascoltandola in diretta poi ho cominciato a capire di più nel montaggio nel secondo montaggio e nel terzo montaggio per cui ripetuta Juvent no? ripetere Giova ascoltare di più e di più di più Giova non ascoltare solo slogan messaggi che poi si traducono ed entrano nel cuore e succede un nutrimento che ti sistema la vita non per tutti non per tutti quelli che amano la sofferenza come la cavera di Platone no? quando quelli incatenati nella cavera sono 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 stati attirati da quello che era uscito che gli voleva dire venite fuori a vedere la cosa che lo hanno ammassato non gli hanno detto ah sì davvero l'hanno ammassato perché per la litania del non portatemi via le mie sofferenze perché se mi portate via le mie sofferenze non ho nulla così ci hanno deformati ci hanno confusi talmente assente la pace talmente desolata la nostra abitazione del cuore dalla pace che poi diciamo queste parole qua ok chiudo finisco vi saluto grazie per avermi ascoltato ma vi ho usato come specchio voi siete un ascoltatore oggetto che io sfrutto perché attraverso di voi io ritorno su di me adesso vado a vedere quello che ho scritto quello che ho detto e se c'è qualche cassata la spiego se invece va bene la mando Mirella un bacio grazie a tutti